il mitico 180 paranovanta vai aratura fra paesani sta arrivando il 1000 180 paranovanta driver andrea di giacomo fiat 1010 super driver claudio super aggressivo come driver mangiare vai 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 il è molto aggressivo mangiate l'ualle con il suo Sam Explorer mangiate l'ualle con il suo Sam Explorer mangiare è troppo pari